il frigo perde acqua orrore raccapriccio stamattina c'era tutto bagnato in terra non so se riuscite a vedere qui qui è proprio bagnato e anche di qua perdeva acqua ho messo degli scotex possiamo vedere la formazione di questi gocci d'acqua lì sta facendo della brina e guardate qua addirittura vedete che proprio cola l'acqua a litri beh ora a litri non esageriamo ma guardate qui ciao a tutti da max noreg e benvenuti in questo nuovo episodio di lavori da uomini l'altra volta era il lavandino intasato poi l'unica copia delle chiavi della macchina che era finita dentro ed era stata chiusa dentro poi il gatto che mi faceva la pipì dappertutto e voi direte ma ti capitano tutti a te e vorrà dire che tu mi porti sfida che tu a di questa volta che è successo il frigo perde acqua pieno di acqua in terra dentro tutte le confezioni degli alimenti hanno accumulato litri di acqua che si sparge per tutta la casa per tutto il frigo come mai succede questo da dove viene quest'acqua c'è un rubinetto da qualche parte del frigo no ragazzi l'acqua è nell'atmosfera noi non siamo nel vuoto se fai così senti l'area no se ti butti col paracadute l'area ti trattiene e quest'area contiene dell'umidità quando questa umidità fa la condensa si formano delle goccioline d'acqua la stessa cosa che succede nel nostro condizionatore quando c'è un macchinario che fa del fresco si forma dell'acqua di condensa questa acqua di condensa dove va deve venire incanalata in un tubicino e dispersa nell'atmosfera in una bacinella o da qualche parte quindi se qui si forma dell'acqua è molto probabile che questo tubicino che dovrebbe portare via la condensa sia intasato andiamo a verificare allora l'acqua dovrebbe andare in questa parete scivolare vedete che ora si è formata anche della brina e non va bene e alla fine arrivare qua ed ecco non so se riesco a mettere a fuoco ecco qui il buco da cui passa l'acqua intasato ragazzi altro che è una cosa schifosa cioè qui non ci passa un filo d'aria altro che di acqua ok liberiamo un po' inserito perché poi dovrà anche sbrenarlo un po' e poi insomma così lo spostiamo meglio ok precisiamo anche per dargli una pulita che male non fa ok ok oh vai è stato un avraccio ma ce l'abbiamo fatta ok ragazzi questo è il retro del frigo e qui in fondo questo deve essere il compressore che fa il freddo il tubicino che abbiamo visto fuoriesce qua giù ora non si vede non riesco a mettere a fuoco comunque lì c'è l'apertura che dà su questa specie di bacinella ora non avendo un apposito scovolino utilizzerò un fil di ferro deve essere flessibile rigido ma attenzione non fate troppa forza se no danneggiate ho paura il tubicino oppure peggio che mai lo staccate per la guarnizione ecco qua il nostro fil di ferro che esce e va nella bacinella non serve una grande lunghezza come vedete ok dai il condotto sembra libero più che altro c'era un tappo proprio qui nella parte iniziale spesso basta pulire qui sgombrare questa zona per permettere all'acqua di defluire ora proviamo e vediamo se defluisce in effetti andiamo ora infatti a versare un goccetto d'acqua in questa canaletta controllate anche mi raccomando che il frigo sia bene in piano cioè non sia inclinato soprattutto in avanti ve ne accorgete dal fatto che la portiera tende a riaprirsi facilmente una corretta inclinazione favorisce lo scolo dell'acqua per modificare l'inclinazione del frigo potete agire avvitando o svitando i piedini che sono sul davanti e questo è tutto per oggi quindi mi raccomando se vedete che c'è troppa acqua in giro verificate che non sia ostruito il canalino che semplicemente porta via l'acqua di condensa lo stesso fate con il vostro condizionatore se vedete una gocciolina d'acqua che vi arriva addosso prima che vi finisca sul vostro monitor facendolo fulminare controllate anche lì che il tubicino di scarico che va all'esterno sia sgombro ok ragazzi questo era tutto abbiamo fatto un buon lavoro vi saluto e alla prossima ciao 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 ciao